Dopo tanto tempo eccomi di nuovo qui con voi, spero che stiate tutti bene e che vi piacciano i fumetti, perché oggi inizieremo la scuola, ma quell'altra scuola, la scuola della vita. Ero senza scopo e la cercavo, finalmente l'ho trovata, e ho deciso di realizzare un fumetto su Il Grande Black, ma a modo mio, spero che ti piaccia. Grazie